Presidente D'Alfonso, una giornata importante quella di oggi per l'Abruzzo alla luce di quello che è accaduto ieri riguardo Ombrina. Ma io da diversi giorni ho anticipato anche davanti ai petrolieri riuniti in Abruzzo in sede di Confindustria che il mese di dicembre non sarebbe stato neutro dal punto di vista della produzione normativa garanzia della qualità del mare, non solo abruzzese, e del cosiddetto mare blu che sta a cuore anche all'Europa. Tant'è che il Governo ha presentato dopo un'intensa attività di colloquio competitivo con le Regioni del Mezzogiorno ma anche col nuovo Presidente della Conferenza, Bonaccini, e io che ho seguito e accompagnato un po' il lavoro delle Regioni del Mezzogiorno a cominciare anche dal luglio del 2015, abbiamo fatto sì che il Governo potesse presentare un emendamento correttivo e abrogativo che ripristina la competenza in capo alle Regioni, che toglie la strategicità per l'approvvigionamento energetico petrolifero che allontana oltre le 12 miglia le attività di ricerca e prospezione e poi soprattutto porta a morte giuridica Ombrina. Noi come Regioni abbiamo preso l'iniziativa dell'attività referendaria e abbiamo fatto valere questo valore facendo in modo che il sistema del Governo centrale si accorgesse di quanto stava a cuore al popolo e alla comunità. Mi era stato chiesto di fare la funzione, diciamo, della comunità che si metteva in cammino per protestare e manifestare. Io ho voluto declinare invece, in termini di ordinamento, la competenza che ha una Regione. Qui hanno lavorato i cittadini del popolo e le istituzioni ed è questo che ha portato un grande risultato. Noi saremo a guardiania della tutela del mare blu, esattamente come dice la strategia della macro-regione adriatico-ionica. Ne potevo consentire che in Europa si dicesse una cosa e in Italia se ne facesse una esattamente opposta. Sono contento, ringrazio i tanti cittadini che si sono mobilitati mettendoci tempo ed energia perché quello che fanno i cittadini lo fanno all'insegna della genuinità e della generosità. E poi voglio ringraziare i collaboratori, i colleghi presidenti di Giunta regionale, Claudio De Vincenti di Palazzo Chigi, il segretario generale, il capo della segreteria, Matteo Renzi, la Boschi, che hanno fatto in modo da recepire questa grande richiesta di cambiamento.